Abbiamo il rientro di Paolo Tancredi, il tentativo di rientro di Paolo Tancredi al centro-sinistra e al centro-destra e il rischio che Mauro D'Amazio possa fare il doppio gioco. Una lettura fantascientifica, quasi anche se la domanda c'è tutta, anche se mi sembra che sono costretto a rispondere in un'altra maniera. Nelle regole della politica di solito si litiga perché non si condivide il candidato sindaco. Da quello che mi sembra emerga c'è una convergenza purtroppo sul mio nome, perché sembra che tutti convergano sulla possibilità che io possa fare il sindaco e qualcuno me l'ha detto informalmente. Ora vedo invece che ci sono litigate, specificazioni, lacci e lacciuoli. Allora parlo molto chiaro, la campagna elettorale che si prefigura è molto difficile. Ci sono problematiche forti che ci sono state sia nel centro-destra come coalizione politica che nel centro-destra come amministrazione e quindi va trovato un programma condiviso forte di discontinuità, di impatto con quello che è il nuovo programma che bisogna proporre ai cittadini e di conseguenza poi convergere su un candidato sindaco. Allora lo dico chiaramente, se ogni volta che c'è un minimo di riunione dove mi si chiede la disponibilità ad osservare o a decidere per un'eventuale candidatura il giorno dopo ci sono, distingo, lacci e lacciuoli, problematiche. Allora signori vi chiedo, vi dico solo una cosa, la politica è maturità. Io non ci sto a condividere un percorso con dei minorenni. Il suo nome passa tra la gente, questo è molto molto importante, ma come si riesce a mettere d'accordo persone che si dichiarano come il nuovo? Eppure dietro Paolo Gatti, Paolo Tancredi, Mauro Di Dalmazzi. La città è composta di 56.000 persone, le forze sono quelle e rimangono quelle nel centro-destra, nel centro-sinistra. La stessa polemica è stata fatta l'altro giorno, anche riferita anche addirittura delle liste civiche. Il rinnovamento passa attraverso nuove candidature, un'amministrazione nuova, un programma forte condiviso e una collegialità di scelte. Siccome i presupposti a me sembra manchino, allora diffido chiunque da utilizzare il mio nome, lo dico ufficialmente, perché, ripeto, ognuno di noi ha una sua immagine, si pone con gli amici, con la città, con gli estranei e con gli avversari in maniera garbata. Siccome ho letto che in 24 ore ho letto di tutto e il contrario di tutto, signori, io l'unico mandato, non prendo nessun mandato esplorativo, gli unici mandati che sono abituato a prendere sono quelli difensivi. Crescete tutti, mettetevi d'accordo con voi stessi e forse ne potremo riparlare. Altrimenti mi ritrovate al mio studio e in tribunale, dove devo andare fra dieci minuti perché ho un problema serio da risolvere.